buongiorno buongiorno bella gente buona domenica soprattutto e benvenuti in questa puntata su GTA allora ragazzi avete visto ho annullato la partita perché quel giocatore non voleva partecipare gli altri veramente si sono stufati io ho annullato direttamente la partita ma faccio questa missione qua perché ho visto che si è sbloccata anche una missione per travel e la vado a completare pure così una dopo di me hey we already did last call you sons of bitches oh 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 Sì. Oh, è all'aeroporto. Sì. Sì. perché, cioè, ti puoi aspettare mezz'ora e fare una partita. Tanti soldi li hai comunque nel senso dei digitali, forse. Però io sono in diretta. Un po' di collaborazione che c'è nella linea. C'è bellissimo che la sessione online non si può mettere in palma, mi piace. ... ... ... ... Two-man Charlie, come again! Oh, shit! Oh, shit! Hey, go! Hey, remember me as mama? Oh, my God! Oh, my God! Yeah! 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 Grazie a tutti. 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 Can't hide from Trevor Phillips, I'll find you. Oh, my God! Oh, my God! No, 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 no. Oh, my God! I see the park, we're in pursuit. Oh, my God! 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 Oh, no, 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 no Ah ecco Ora la rifaccio A me non la faccio La faccio diventata ora sta missione Ah raga preparo anche il pranzo Yomi Freeze No Tony Hey Where are you going? I thought we were friends Eskimo brothers Wiener cousins Just calm down, Tony Dumb move, Josh Freeze No, Tony Holy fuck Hey Dumb move, Josh Dispatch, I have a 20 on him You try to do a nice thing for someone? Take some time out of your day to pleasure a man's wife, burn down a house I don't know, some people You chop Hit back Need a location on the suspect Air support has lost visual 10 1 Wil E 10 1 1 E 15 15 We are in route, air support in route. I don't want to touch you. ecco fatto almeno l'ho fatto a nient'altro sta missione nessuno può fregare trevo a mettere l'entra che ora di pranzo e così abbiamo concluso tutte le missioni in gta non ce ne sono rimaste più ora dobbiamo solo attendere che è il sesto che se ne parlerà o quest'anno 2000 o il 2025 comunque raga tra i prossimi gta vedrò anche riportare i precedenti il primo e il secondo vedrò di portarlo tramite api s5 se sta disponibile sull'applicazione perché purtroppo non riesco a farlo partire tramite dell'emulatore se no vabbè con il tempo vedrò di programma la ps2 e usa e l'adattatore che è già nella mia lista degli acquisti comunque la live di prima la cancello perché è inutile caricarla devo di far vedere è uno stock che altro posso mostrare farò solo un taglio immagine per far vedere com'è venuta l'introduzione e basta com'è venuta l'introduzione e basta com'è venuta l'introduzione e basta Grazie a tutti